Bentornati, oggi parliamo del bando formazione e lavoro. Tutte le imprese con sede nelle province di Pistoia e Prato possono avere un fondo perduto fino a un massimo di 2000 euro in caso di attivazione di stage o di contratti di apprendistato. Nello specifico, primo caso, attivazione di uno stage tramite studente di scuole o di istituti tecnici. In quel caso l'azienda può avere un fondo perduto pari a 500 euro per ogni studente fino a un massimo di 3, quindi massimo 1500 euro. Nel secondo caso, se l'impresa attiva un contratto di apprendistato di tempo indeterminato o di tempo determinato almeno 12 mesi, in quel caso l'azienda può avere un fondo perduto di 2000 euro al massimo. Entrambe queste situazioni devono attivarsi nel 2022. Il bando si aprirà il 15 settembre 2022, così anche da dare il tempo effettivamente alle imprese di attivare e di far cessare anche qualche percorso di stagista, perché nel caso dello stage, lo stage deve essere concluso. Naturalmente, questo non nel caso di apprendista o di contratto a tempo determinato. Molto probabilmente la partecipazione a questo bando sarà a Click Day. Grazie e alla prossima!